E signori a partire da adesso faremo un'ora intera a terrare solamente nel nuovissimo posto del boss splinter let's go refe Buone sì ma signor ferro io sono da splinter e lei dove cavolo è? No io sono da ok potrei essere entrato dalla parte del dietro da Josie sono Lei è entrata dalle parti sbagliate in tutti i sensi mi scusi eh Poi in una maniera strana hai detto in ogni caso siamo dal boss splinter sì Quindi non rompere le scatole ciò che dovremmo fare oggi è scomprendere tutto al 100% di questa tana del cavolo Uccidere il boss splinter Dov'è la tana del cavolo scusami la tana del carciofo La tana del boss splinter scusa la tana del cavolo Sì nel senso era perché avevi usato il nome di un erba cioè di un frutto capito di una verdura Ah e tu l'avevi rimamata vabbè no non faceva per nulla ridere In ogni caso signori mi raccomando like in descrizione codice ferro scriveteci tutte le cose che sapete su questo nuovissimo boss Rubiamo una pizza per favore eh Mangetela pure Eh sì me la mangio pure Tanto intanto avevi già full shield Sì sì io sono più forte No io sono il più forte Ah sì te sei più forte perché è dello shield No beh è chiaro d'altro non è sì funziona Dai signor Ferro tiri su ste pizze che andiamo a pushare Una volta atterrati andiamo a uccidere la gente giusto Ci andiamo a sparare Esatto let's go Dobbiamo andare subito di sopra a pushare Che hai sparato a me scusa Sì ho fatto un piu piu Eh vabbè non sparare a me e venite andare su a tryhard dive Mamma mia ragazzi per favore per favore dite nei commenti ferro rompi meno le balle Mamma mia No 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 tu non hai capito Oggi noi siamo dei boss splinter arrabbiati capito Qua ci stavano persone sopra Non devono esistere le persone sopra di noi Secondo che tu sei un mezzo gatto vero E splinter è un topo Questa cosa mi piace ma sai cosa mi piace ancora di più Farne kill qua ci stavano persone De dios Carracco ai caracco che male che ciccomalo Sai cosa vuol dire carrafo No Ecco Vuol dire tipo ragazzo stavo scherzando Ah ok no questo è diverso Stavo un po' Stavo un po' trallato No in ogni caso ascoltami Dove sta la gente zio pera E infatti se ne sono andati Vabbè stavo stando dietro Dov'è Ah ma andiamo a distese Sicuramente siamo gente a distese Let's go tu distese Signor Ferro Signor Ferro Li vedi là Sì No non le vedo Guarda se riesce a salire sull'auto Li andiamo a devastare completamente Vai 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 Dobbiamo dimostrare che siamo atterrati al boss splinter Ok anche se alla fine raga non ci stavano persone Perché Ok Don't you worry Don't you worry child Ti dico solo che gli sono entrati in tutti i box L'ho distrutto eh Yeah I will pay for you Ok sono il box ucciso Easy 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 kill La smetti per favore di cantare cose a caso Quando stiamo per killare persone Don't you worry C'hai arriva il nemicio Il nemicio Il nemicio sono io eh Caccato crackhead Tu l'hai crackato Io adesso lo uccido eh guarda Ok Peso il muro Faccio Bang 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 Questo prendo io Vabbè tanto ce l'avevi blu Cosa la devo fare scusa? No 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 Devi veramente Mangiare di meno Cosa devi mangiare di meno? Ci sono persone qua Devi mangiare di meno In generale Guarda per che ci sono persone Guarda che gli ancio Dopo i torrenti Non so se hai capito sta cosa Ti coso io ho tirato due torrette qua dentro Ficchia Allora sei un grande Da dietro questo io arrivo Boom Ucciso Da me Ok distruttissimo Ucciso Centosettà Cosa? Eh sì ho ucciso io No perché io ho fatto centosettanta ma non è morto? No perché l'ho ucciso io Ok Non mi faccio domande Ok forse è meglio non farsi domande In ogni caso Attenzione ci stanno altri player se non mi sbaglio Quindi occhio Vieni qua vieni qua vieni qua Vai Ok Ah pensavo tirassi un impulso No zero impulso Lo soltanto di scindarmi Ok stanno qua dentro eh Easy sì mi sento Ok No era un pollo non ci credo Easy easy calmo calmo Sono dentro sotto eh No sono dentro qua da me Ok Ok io adoro da sopra 100 102 Devastato Ok è tutto tu eh Ha spaccato distrutto Ucciso Devastato Mamma mi ha mangiato Let's go Ok allora signor ref Io glielo dico Già potremmo vincere la partita Anche se il nostro obiettivo Era quello di lendare in continuazione Dal boss splinter Perché hai cambiato pompa? No C'era un pompa più bello di quello viola? No sono due viola Ah ok è meglio così Perché pensavo ci avesse tipo il pompa di Di Peter Griffin E te me l'avessi preso In caso mi sarei arrabbiato Veramente tanto Andiamo ad aprire giù il bunker E vecchio Cioè io ti dico che la vinciamo questa Cioè Non so se hai capito che questi qua Abbiamo devastati Demoliti No 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 esatto Ma il problema è che ragazzi Siamo troppo più forti Quindi mi raccomando Per voi vi ricordo Codice ferro Nelle gazzoggetti Per il vero massimo supporto Grazie di cuore a tutti E mi raccomando Like e iscrizione al canale Let's go E se ve lo state chiedendo Sì Non abbiamo ancora scoperto In 2024 Cosa sia il vero massimo supporto Per ferro C'è un nemico Ancora Volevo spiegherò Cosa è il massimo supporto In ogni caso Andiamo da sto nemico sopra Che sta parlando un po' troppo Aspetta Aspetta Abbiamo un mucca prima no? Potrebbero essere anche dei bot Potrebbero essere Non vorrei dirlo Sicuramente saranno dei bot Perché non c'è le cuffie Te lo assicuro Invece no erano nemici Entriamo Prendiamo Spacchiamo E andiamo a ucciderli ok? No ma tieni conto Di che cosa? Di nulla Cioè di sto cacchio Speravo ci fossero delle armi Molto più forti Onestamente Ma io in realtà L'ho trovato belle e forti Stanno qua sopra Vieni 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 Vai 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 mamma mia Mangiati eh Perro Tre Due Uno Ah ma occhio Sono due team differenti Da me da me da me Ah ok Eh da te si Anche da me Spero arrivo io da te Vieni 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 Ok 32 32 Dove sta? Sarà nel box da sopra Guarda Dove sparo io ora? Ancora là Sì sì Sponesse Potrei provarlo a cecchinare Ma Sì ma sta sopra eh Ok Forse ho visto Bravo Era lì Mamma mia no Sono in due Entrambi col cecchino Vieni da me Ora 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 da me Ora da me Fai queste Fai queste e tira Tira la tira Ok Mamma mia Ah mi ha preso in volo bro Sì vabbè No vabbè ma ci sta Dopotutto Sono dietro montato Poi non ti possono prendere Corri qua adesso e curarmi Instant Così dobbiamo farlo Vieni e resta così Non buildare neanche Fidati Incrociamo le dita Speriamo Che sciocco Oh mio dio Che pirla Che scemo Pure quella quella Pure con quella roba Brother oh mio dio Non è vero Non è vero Brother L'ha collata Vinta 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 Ok Full boxato Caccato Ok ho ucciso Bravo 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 Quanto godo Mamma mia Mamma mia Mamma mia Ferro Ferro Sono le full boxatine del signor ferro e del signor refe Mamma mia che golosa L'abbiamo devastato poverello Mamma mia che golosa Dov'è l'amico Non ci vuole busciare Dai vieni vieni Ah fa il fenomeno eh Quando ne atterri uno Ma quando sono due Cosa fai quando sono due Fai il pisciazza Dai che cosa fai Dove sta l'altro Adesso lo andiamo a prendere Comunque devo fare Perché non sobra che sia il signor ferro Per aver droppato le impulso Non volevo Sono finito sopra da loro Ok Full boxato uno Ho distrutto Ha poca vita Ha veramente poca vita questo qua rosa Ucciso Benissimo Che almeno farà un po' meno Perché parla un po' troppo Si 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 concordo Quando la gente parla Mi dà veramente fastidio Questo qua c'era un sacco di POMPA Il pompa mitico Oh mio dio Mamma mia hai fatto Cosa hai fatto prendere un colpo Mi hai fatto prendersi Sono arrivato da te Cioè nel senso Si no ma in maniera normale Mi sembrava scortese Non essere da te no 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 si no In realtà hai fatto bene Di caso tranquillo 7 kill per noi 20 persone rimaste Ma qua Noi ciò che dobbiamo fare Gli stiamo facendo Ah eccolo l'infame È logico Oh gioca solo così Dove? È là sotto È sotto là È là in mezzo Adesso vedi cosa gli succede Quello là in mezzo Guardalo Ok Lo vedo vedo È esattamente là bravo Quando la gente parla No Straparla Adesso gli faccio vedere Cosa succede Adesso cosa fai? Cosa fai adesso? Gli stiamo entrami sopra Vero però Da te dove precisamente? 50 Cioè dai Dai fuori dalle palle Fuori dalle palle Buona notte Dai 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 ferro Ma che goduria Ma che goduria Ok mamma mia Non te li rubavo Non te li rubavo Tranquillo Non ti devo fare Allora in ogni caso Scudone per me in realtà Meri che se lo dovessi trovare Anzi no flopper per te Cioè Un like e un'iscrizione al canale Codice ferro Che altro posso dire raga Stiamo devastando Bro Zero possibilità di andare peggio Di così c'è Io scendo tutte le volte Adesso del boss splinter Se iniziano così No ma raga Veramente Letteralmente assurda Sta cosa Io avevo detto Scrivetene in commenti Qualcosa del boss splinter Raga Scrivete se anche voi ci rendate Perché il land migliora Anzi Sono curioso Scrivete il vostro land In classificata In ranker nei commenti Sono molto curioso Di sapere dove le andate Per vincere le partite Sì ma ragazzi Boss splinter Impossibile battero Cioè con 8 kill così In game Non ha senso Ok Confermo Sì è letteralmente assurdo Anche perché Di no c'è un sacco Ci sono le pizze Che sono la cura Letteralmente più forte E baggata del gioco Non puoi dirmi nulla Ci sta il boss splinter Che è un topo Quindi ci dà la potenza Il ratto Veramente ci dà la potenza Dopo ci comunque Ci rilindiamo per forza Anche se lo avessimo vinto Perché voglio capire Se è davvero sempre così E raga Comunque è devastante Poco da dire Adesso andiamo amici A partite Basta Poche parole Tanti fatti Let's go Signor ferro Abbiamo un medaglione qua E qua E qua E qua dove E la sopra Easy Ok sì 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 Eccolo Let's go Signore pe Mi faccio ispirare da lei Questa volta Deve lei comandare Sei aggressivo Hai voglia di mangiartelo Quest'uomo Non ho proprio paura di nessuno Intanto loro continuano a scappare Eccolo qua sopra Eccolo qua sopra Guarda Lui pensa che fare così Ah ok Mi si sono aperte le mail Non volevo aprire le mail Ok io ti dico soltanto che adesso Guarda Gli prendo qua Ok bam Ok eccolo qua 50 E Vabbè E non la senzora La seconda volta Io non giocherei più a forte Parla e parla ma guarda Sempre giù Oh mio Dio che cosa gli ho fatto Gli ho fatto una delle full boxate Più impossibile della storia Ok Ok e da me C'è gente che cecchina tra l'altro eh Ok questo è veramente bravo Ok caccato Ok dove se ne sta andando Che me Ok tutto mio eh Caccato Mi danno la caduta Ho zero Guarda la mia vita Oh mio Dio Eh ci vado Sono qua Ci vado 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 E ho Sono mini Ok io non sono Da te Sono te Vedo Orca miseria Ah eh niente Devi scendere Scendi 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 Eh gogo Bravo scappa verso di me Continua a millare Un sacco di mazze Villa 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 No paura Villa E viene verso di me Ti prego Stai Vida Mai vinta Eh vabbè Niente È tutto nelle tue mani Sto arrivando io da te ora Già tu L'altro one Oddio Mamma mia Ma signore Ma quanto siamo più forti Oddio Un altro team No basta Basta Ora basta No più pompaferro Full box ad uno C'è una pompa Ok Villa ricarica e scappa Oddio No paura mi è lasciato solo Vai Spara No 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 Oddio Non ho colpi a R Bravo Oddio Non ho più colpi Devi lasciare anche me Un attimo ricaricare Per favore un secondo Ricaricato Tutti morti 29 a 1 Ok Ok sta qua eh Ti ha ucciso Quale? È un Quello che ho atteggiato prima Ah ok Meno male No pensavo l'altro Ho detto what Mi sto scildando un attimo 50 Però sei solo eh Sì ma il problema è che lo sto demolendo Ma è tosto morire eh Carico la mitaglietta Che se ho giurato 50 di nuovo Questo guai è bravissimo comunque Ok è veramente bravo Questo rag Occhio le fa Che ti full box in un secondo È veramente fortissimo Però dove cavolo sei andato Qua sotto? Qua sotto? Quello m'è Mannaggia lui quanto corre 84 di nuovo crackato Brother l'ho demolito Full boxato? Non gradato? No è sceso Jump nel box? No way Porca troppo Oddio Uno di vita Fermi sto scildando eh Aspetta Tino lì Tino lì 32 Tino lì Ma crackato 32 No brother non hai capito È fortissimo questo Però l'ho distrutto eh Ok Io ho fatto molto pieno Di quello che mi ha fatto lui Ragazzi c'è un altro team Però hanno rotto il caffè Ma se l'hai scappato? Sì si è scappato C'è un altro team anche Oh mio dio Ok Posso dire che Questi sono uno dei fight Più interessanti E assurri Questo non dobbiamo farlo scappare Ascoltami Non dobbiamo farlo scappare È fortissimo E va uno di vita Ok guardalo guardalo No 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 23 Non ci credo Quanto corre? Questo è da prendere È il nostro obiettivo Il prossimo obiettivo Prenderlo davvero È fortissimo Sì si mi prendesse il rampino Mi facesse andare Non ci stanno Ok qua qua sotto Buono 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 Peccato Ucciso mamma mia signore Per quanto siamo più forti Ma non stai però Da nostra parte Ci sta ci sta ci sta Ci sta giusto 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 Ma che è sta cosa? Builda bravo ti prego Mamma mia ma ragazzi Ma che partita stiamo facendo? Oh no no Bisogna scappare Safe 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 Corri No way Che cavolo di partita è? Dove non sta a imperare? Mamma mia ragazzi Non ha senso Io ce l'ho anche Adesso li stai infero io Primo in testa Ok Oh porca trota Però io spero solo Che tu li prendi un attimo Sì eh conviene C'è che c'è nato 1-116 Però non è morto C'è chi nato 1-116 White White Double white Triple white Vai 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 È un momento ora C'è chi nato l'alto Oh mio dio ragazzi C'è chi nato Oh mio dio ragazzi Parate voi per favore Parate voi Stiamo facendo Oh mio dio Ragazzi Che partita è? Oh mio dio Ma veramente ma Brother giochiamo la World Cup Cosa sta succedendo? Oh mio dio Signori te lo giuro Siamo devastanti No ok Non c'è senso Non c'è senso di esistere Abbiamo 9 e 7 Abbiamo 16 2v2 2v2 Ok è nostra Ma tu vuoi rilendare dopo? Ma chiudi qua Ma chiudi qua Ma no 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 Rilend raga Abbiamo trovato L'end spot della vita Il boss splinter Ragazzi Oh mio dio Ma what the hell Stanno là Trovato No Ok Ma è un botazzo? Chichilato Easy Non botazzo Ok Ok Ma no ma stai scherzando Cioè noi siamo andati a killare un team Prima che era devastante E poi troviamo gente così Ha una di vita piccone 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 Ragazzi io direi che questa è giù È per concludere in maniera Anzi guarda come Guarda come What? No Ah l'ho ucciso col rampio Signor ref no Volevo fare una roba fighissima Vabbè Bro Posso di una roba Che sai che win abbiamo appena fatto Ferro Abbiamo appena fatto la win Più incredibile di sempre Io vi ricordo No Vi ricordo un corno Rilendiamo perché abbiamo un'ora da lentare Mancano 20 minuti Quindi facciamoci un altro land Signor ref il land Ora era molto più diretto Cioè praticamente eravamo all'inizio del bus E quindi sarà un po' più complesso Anche se io di persone Non ne vedo ancora No no Qualcuno è lendato Non so se verranno qua sotto Onesto eh Non so Ma ti rendi conto che raga Comunque questa cosa è davvero assurda Cioè io vorrei parlare con voi Nei commenti Ditemi se è il land più figo di sempre Oppure no questo del boss Perché guardate Io adesso mi ritrovo qua Messo abbastanza male Mi piglio la mia pizza Così vado full E ho praticamente una full cura Da terra nell'inventario Io non so che altro dire Signor ref Anzi Venga anche lei Anche pieno di mitragliette E cose varie E mi mangio Bravo esatto La pizza Bravo fai una roba Prendite anche te per una nuova pizza Prendite la diretta Così almeno possiamo tenerla Così almeno meglio di così Proprio non siamo Non possiamo essere messi Quattro Teniamo quattro fette a testa Entrambi siamo full Che vuoi di più della vita Comunque Ma nient'altro in realtà Anzi vorrei andare a vincere un altro game Come prima Bravo Bravo in effetti C'hai più che ragione In ogni caso Cosa Io vabbè io ho il pompa bianco Oddio in realtà io ho il pompa bianco Ma c'è Kino Altri scudoni C'ho pure la No ragazzi Anch'io ho un medico Due scildoni e quattro pizza Broder Sai dove si pusha Si va dritti a distese signori Perché abbiamo paura Per caso del boss Ancora Ancora Ma perché siamo troppo illegali Allora io ti dico una cosa Ok Con le armi che mi hanno adesso Io potrei anche andare a fightare Mongral Sì Allora Un po' esageratino eh Se permetti Io non esagero mai Però ti credo Cioè in effetti Io sono messo veramente molto molto bene Hanno già preso il medaglione eh Questa volta Ok interessante come cosa Tu per caso hai paura Splinter No 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 Allora Non girare la frittata come preferisci Io non ho mai Ok in effetti La mia era Era Un'affermazione molto molto fastidiosa Cioè l'ho fatto proprio Per tirarti la frittina L'hai fatto apposta Per rompermi le scatole Perché lo sai che non ho paura Bravo esatto Ormai ragazzi siamo troppo più forti Attenzione un player da me Però questo Chiamalo player se vuoi Sì Mi chiedo scusa Intanto c'era anche l'altro Questo invece è fortissimo Allora Chiamiamoli player Se proprio vogliamo Però io non lo farei Diciamo che abbiamo killato i boss Che proteggevano Quelli col medaglione Ok Esatto bravo E ora E ora arrivano quelli col medaglione Non arrivano le prede succose Quelle che stiamo aspettando Now It's time To shine Sarà la nostra nuovissima Il nuovissimo motto Di vittoria Ti vedo sulla supertetto Ok Craccato Ok io l'ho ucciso Perché mi dispaceva Tenerlo lì craccato Sì a me Mi sembrare anche Anche scortese Soprattutto nei miei confronti Esatto Qua c'è un altro Che ha killato il tizio Che avevamo messo a terra Come si è permesso Cioè lui ci ha killato Un nostro tizio Ma che Ma che disrispetto È questo Scusatemi Ok Il problema è che Occhio Lo fa easy E lo fa easy Proprio C'è il pompo bianco Ah sì ma sta shieldando Anche lui Perché non l'ha ciotto Con uno di vita Poverino Shieldati pure te Che questo adesso ci penso io Adatto che mi ha rotto le scatole Ha killato il mio amico ref Eh no no Devi far tutto ma non questo No no bravo Bravo tutto ma non questo Idiota Idiota Dove si è messo Eh lo so Da me Sai che secondo me Non lo becchiamo più questo No ma io ho un modo Per prenderlo volendo Ah beh forse Ah da me Ok sto correndo Aspetta il bro Adesso il tuo vero bro Fa la giocata Ok No non è vero Dove sta Eh non lo so Pensavo di prenderlo così Ma in realtà non l'ho preso Ottimo Cerchiamolo signori Lo speriamo Ho capito 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 Trovato Esatto È qua Bravo No Da dietro Ucciso 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 Ma quello dietro Devo chiedere C'è un pompa carino Si Venimi da No no Spacca 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 Come si è tutto Sopra Sopra Nella destra Aiuto Oddio C'è un villale Dio Villa Bravo Ok 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 Calma Oh So splitter Però è 2 su 2 Che ci va a fare un bello Startino Comunque è devastante Ragazzi Sono i migliori Star Così non potevamo chiedere di più Cioè letteralmente sta partita E non dico che è vinta Allora noi questa la full pushiamo Provando a morire apposta Ma questa partita è No way C'è la pizza tranquillo Di splitter E sta a est Tipo molto molto in fondo Là Stare in due Vogliamo pusharli? Facciamo sta mattata Oddio Oddio Lo speccato Vado Io le pusho eh Oddio lo ha distrutto White Bravissimo Tu non è bravissimo Ucciso uno 2958 Ucciso un altro Un altro sotto No finito in mazzo Morto eh No 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 Lo faria il shot Arrivo Insomma ok GG sono morto 29 Arrivo Broder Se vinciamo anche questa Siamo devastanti Ti prego Ce la dobbiamo fare Devo chillare No Vai che il lato Deve tutto nelle tue mani Ce la fai Dimostra Dimostra chi sei veramente Fallo per il team Ok Ok non so perché Questo è veramente bravino Ma più che altro Ma avevo dimenticato Di farmare i maz Ok E' un'altra pizza se vuoi Sì 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 Già paghi nel box E' più forte Aspetta Vai Sì no No way bro Oh mio dio Deva 10 di vita Vabbè se la ride Ma sai che ti dico Tanto l'ora è scaduta Il boss printer Miglior land In assoluto Like Iscrizione Codice ferro Noi ci vediamo Nel prossimo video Bella rega